Sotto i piedi la metto, eh. Niente copertina. Fabio, là. Ma io sto senti caldo, metto la coperta. Guarda che posizione tecnica. Sono andato al mare stamattina. Sì, sono andato. Oggi, commissioni, eh. Commissioni. Quando ci passavi di qui col camion, quanti anni fa? Vabbè, 70 anni fa. 70 anni fa. Sulla statale. Quanto? Mi sbaglio. Vabbè, 60-50. 50 anni fa. 50 anni fa, no, più. Vabbè, comunque passavo su sta strada, sulla statale. Ci va a caricare la grotta al mare. Che carica, le noccioline? Sì, la figa che è qua. Guarda, ritremo al brazo. Fermati, Dio, cani! No! Ma allora? Ma la fai fragnati qui? No, dai, perché stai ignorando come un altro canto. Stai a vedere il mio... Oh, di cui che stiamo a fare? Quel pezzo di legno si può anche levare. Perché? Non ti piace? No, che c'è sta a fare? Mi canna da ardi. Che la fa? E' a lei da pigliare i carboni. Come, come la pia? Una sega! Massi, ma stasera ci fidamo? Ci fidamo, ci fidamo. Quindi sono argentino, sono calabrese. Eh, quindi? Gli rossicini fanno in Abruzzo, però. Eh, quindi ci azzecca... Oh no! Se va bene, siamo rovinati. Ebbè! Te lo vedete con il cappello degli rossicini? Di chi è? Questo è quello degli rossicini. Te lo lascio con le pelle. Queste le pelle perché prende l'aria pure. E tu che prendi? Io perché ho la maglietta. Dopo gli rossicini ce le regalo ogni volta che le chiamiamo. Che non si è? Ho la maglietta. Ehi! Abbia, abbia. Ehi, vorrei chiedere. Guarda, guarda. Ohè! Ehi! Ehi, tra poco ci arriva. Uguale, uguale proprio. Ma tu ancora parli, oh! è meglio che il caldo